Salve a tutti, sono Nadia Mignussi, sono una terapeuta, life coach e in particolare oggi vorrei condividere con voi un grandissimo insegnamento che ho ricevuto ben 25 anni fa, il Prani Healing. Il mio percorso è stato un percorso normale, universitario, ho fatto l'Istituto Superiore di Educazione Fisica e poi un bellissimo percorso con la danzaterapia e con la psicoterapia. Oggi però vorrei proprio condividere con voi quest'arte di guarigione che applico costantemente nelle sedute con i miei pazienti e che insegno nella scuola di formazione che abbiamo in vari centri in Italia. Cos'è il Prani Healing? Il Prani Healing è arte di guarigione. Prani Healing vuol dire guarigione pranica, prende in considerazione l'essere umano nella sua totalità, nel suo corpo fisico e nel suo corpo energetico. Dovete immaginare che noi siamo fatti un po' come le bambole russe, abbiamo per cui vari corpi, vari veicoli che si penetrano e si compenetrano. Che cosa facciamo noi quando insegniamo o quando io applico quest'arte ai miei pazienti? Andiamo a fare uno scanning, lo chiamiamo noi, cioè tocchiamo con le mani e con la vista interiore possiamo vedere gli organi fisici ed energetici e possiamo vedere degli altri organi che in sanscrito vengono chiamati chakras. Sicuramente ne avete sentito parlare, non sono altro che i punti dell'agopuntura, per cui in ogni cultura hanno nomi diversi. Noi come Prani Healer insegniamo alle persone a manipolare questi centri energetici, questi corpi, per fare che cosa? Per riportarli in equilibrio. Dobbiamo capire che tutto è energia e che la guarigione viene applicata prima sui corpi energetici per poi somatizzarsi, manifestarsi nel corpo fisico. Il Prani Healing comporta un trasferimento di energia dal terapeuta al paziente. Prima di fare questo noi andiamo in termini semplicistici a pulire il sistema, cioè andiamo a far scorrere il prana o forza vitale o energia vitale o chi o chi o frequenza o suono o luce in tutti i centri, in tutti i meridiani e per cui andiamo a pulire, a togliere, possiamo dire così, a estrarre le energie malate, le energie che stanno congestionando il sistema. Tutti noi possiamo imparare questa grande arte e scienza di guarigione, tutti noi possiamo diventare Prani Healer, possiamo per cui applicare questo grande insegnamento su noi stessi o sugli altri, in modo molto semplice. Che cosa ci viene insegnato? Ci viene insegnato primariamente a sentire, a toccare l'energia, a toccare i corpi, questi corpi di luce con le nostre mani. Impariamo a toccare e a vedere questi centri energetici che si chiamano chakra, che non sono altro che dei piccoli imbuti che stanno sul corpo eterico, cioè su quel corpo che interpreta il corpo fisico. Immaginate i chakra proprio come imbuti e immaginate che girano, girano in senso orario per assorbire, per respirare, possiamo dire così, il Prana. Il Prana entra come una luce che entra all'interno di questo imbuto e poi scorre nei canali che sono i meridiani. Arriverà fino agli organi e per cui questo Prana, questa forza vitale, va a sostenere la vita dei nostri organi. Dopo un po' il chakra, scusate, gira in senso anti-orario ed espelle, cioè espira l'energia usata. Se questo sistema in qualche modo si interrompe, ecco che allora può apparire uno squilibrio o una malattia o un disagio fisico, emozionale o mentale. Capite bene che studiando questa anatomia sottile, studiando e conoscendo come funzionano questi nostri corpi, questi chakra, noi possiamo intervenire. È come conoscere il motore di una macchina e poter per cui aggiustarlo. Questi chakra sono 11 e la loro facoltà è quella di energizzare e controllare gli organi, gli apparati del nostro corpo fisico. Ma non solo, immaginate, vi ho detto prima che siamo fatti un po' come le bambule russe, abbiamo dei corpi, dei veicoli, per cui immaginate il veicolo, il corpo emozionale, che è quello pieno di colori, gestisce le nostre emozioni, il corpo mentale, sono le bamboline più grandi, quelle che contengono la bambolina piccola che è il corpo fisico. Immaginate questi chakra che si espandono, si estendono in questi corpi e qui la loro funzione diventa funzione, tra virgolette, psicologica, cioè controllano e danno energia a delle funzioni psicologiche, cioè controllano le nostre emozioni, controllano i nostri pensieri e controllano anche quel nostro essere spirituale, chiamiamolo così, quella coscienza o quella presa di coscienza che più possiamo avere di essere esseri veramente, possiamo dire, di luce, esseri fatti a immagine e a somiglianza di Dio, cioè anime, anime che per cui abitano questi corpi di cui vi ho parlato così semplicemente, anime che hanno bisogno di avere dei corpi fisico, emozionale, mentale, spirituale, sani, forti ed avere coscienza di questi corpi per potersi muovere sui vari piani della nostra vita. Io vi invito a venire a trovarci ai nostri centri, ne troverete l'indirizzo sul nostro sito che è www.ifitalia.com. Vi invito a visitare in particolar modo la pagina che parla della scuola di formazione. È un triennio che vi dà la possibilità di diventare degli operatori olistici nel pranichile, cioè dei pranichile. Grazie a tutti, spero vi possano essere utili queste informazioni. Namaste.